Quanzita, questa prova che è complico di svilare la classifica finale e soprattutto di assegnare l'articolo di campione regionale di categoria per questa specialità. Ti dico conto di dare una pilota a Biotto e i protagonisti di questa prima finale del polizio stanno percorrendo l'impianto sportivo di Biotto e di campione che fanno il volto e dobbiamo necessitare la prova per accertare la volata e la ritenuta a Cusino. Grazie